ciao a tutti benvenuti in un nuovo video questa volta l'argomento è una figata pazzesca ovvero come fare le transazioni sulla blockchain ethereum senza dover pagare il costo in ether la criptovaluta nativa della blockchain ethereum prima di iniziare vi ricordo che sto realizzando un corso su bitcoin e finanza decentralizzata e come utilizzarli in modo sicuro e nel rispetto della privacy in descrizione trovate maggiori informazioni allora l'argomento del giorno è secondo me molto interessante perché è una delle motivazioni per le quali è difficile per una persona che non utilizza criptovalute avere a che fare con i token doverli trasferire e cose di questo tipo in realtà è una problematica non solo della rete ethereum ma anche di altre blockchain la stessa cosa accade su bitcoin quando vogliamo fare una transazione in bitcoin e lightning network c'è bisogno già di avere dei bitcoin per aprire un canale e fare quel tipo di transazioni accade anche su ios possiamo sì fare le transazioni gratuite su ios ma dobbiamo pagare in ios i costi per la cpu la net e la ram e quindi una persona che si avvicina per la prima volta ai token e alle criptovalute trova difficoltà perché ha bisogno non solo del token che magari gli viene regalato o dato ma ha bisogno della criptovaluta nativa per poter fare transazioni su una certa blockchain e grazie all'argomento di oggi le meta transazioni sulla blockchain ethereum vediamo come si possono trasferire dei token stabili quindi che non oscillano senza dover pagare il costo di transazione in ether la criptovaluta che serve appunto per pagare le transazioni in ethereum il progetto in questione è questo qui gasless e a differenza di altri approcci che ci sono stati in passato l'approccio più interessante è che questo wallet gasless ci permette appunto di fare transazioni in un modo non custodial quindi noi possiamo utilizzare i wallet che siamo abitualmente abituati ad usare per esempio metamask che è l'estensione per il browser o in alternativa trust wallet oppure status im in realtà che cosa fa nel concreto questo gasless in questo articolo che vi lascerò anche in descrizione questo gasless si tratta di un open relayer api ovvero un servizio che si preoccupa di convertire i dai questa criptovaluta stabile che ha valore perché è collateralizzata da ethereum e quindi converte questi dai di nuovo in ethereum per pagarci il costo delle transazioni in questo articolo appunto ci sono vengono analizzati diversi aspetti di questo approccio e secondo me l'aspetto molto interessante è che si può utilizzare questo gasless senza dover migrare ad un altro wallet possiamo continuare per esempio ad utilizzare metamask dalla dap che ci viene data appunto da gasless se volete entrare ancora meglio nei dettagli comunque nell'articolo ci sono dei link a dei repository su github comunque i passaggi secondo me interessanti sono che questo approccio funziona su il nuovo dai quindi il multi collateral dai perché è stato implementato questo metodo permit che permette appunto il fatto di pagare una parte della transazione in token e farla pagare diciamo a un'entità esterna a un relayer e come viene mostrato per poter pagare questa transazione comunque dobbiamo dare l'accesso a questo smart contract facendo una prima firma e il funzionamento iniziale è che inizialmente tramite metamask noi firmiamo una transazione che permette poi a questo smart contract l'accesso ai fondi in dai per poter fare la transazione rispetto una normale transazione su ethereum in questo caso paghiamo la transazione in dai e serve una parte di dai serve appunto per pagare la nostra transazione e l'altra parte è una fee che si trattiene il relayer proprio per aver fatto questo servizio visto che comunque il relayer ha bisogno della sua infrastruttura questa è come viene visualizzata sul block explorer una transazione di questo tipo quindi abbiamo la cifra che noi inviamo in token dai e poi abbiamo un'altra cifra più piccola che appunto è quella che viene utilizzata dal relayer per convertirne una parte in ether per pagare questa transazione che dire io stesso ho provato questo servizio per vedere effettivamente come funziona e se funziona ha funzionato mi sono inviato appunto 991 dai dopo di che ho rinviato una parte di questi dai e su questo wallet appunto non c'era assolutamente nessuna quantità di ethereum e non c'è mai stata nessuna quantità di ethereum e come vedete una parte di dai è stata inviata e l'altra parte è quella che è stata usata per i costi di transazione e il tutto funziona molto semplicemente schiacciando qui su send e quindi poi si interagisce con metamask per poter inizialmente fare la firma e le cose che abbiamo letto prima l'unica pecca abbastanza piccola che secondo me potrebbe essere migliorata nell'interfaccia grafica è quella che a differenza di una transazione in ether non possiamo specificare il max o meglio possiamo specificare il max ma in questo caso non abbiamo poi più dai da utilizzare per pagare il costo di transazione quindi il mio consiglio è quello di provare un po' a mano una quantità di dai che ci permette di lasciare il minor numero di briciole possibili su un certo wallet poi idealmente uno questo wallet potrebbe anche riutilizzarlo però appunto attualmente l'interfaccia non permette di prosciugare completamente il wallet dai dai in questione che dire questa era la mia prova di gasless questo sistema per inviare token sulla blockchain ethereum senza pagare i costi in criptovaluta nativa ether ditemi voi cosa ne pensate di questo sistema secondo me sarà molto interessante per diffondere ancora di più i token tra persone che sono a digiuno di tutte queste dinamiche che ci sono su blockchain e questo è tutto e come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete iscritti vi saluto e ciao alla prossima